Musica Dopo il passaggio della debole perturbazione che ieri ha riportato qualche debole fenomeno anche nevoso in montagna, soprattutto nelle zone meridionali della regione, il tempo torna a migliorare grazie al nuovo aumento della pressione e alle correnti settentrionali che riporteranno un po' di freddo per qualche giorno. Per tutta la giornata avremo condizioni di cielo parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone interne centro-settentrionali dove sarà possibile qualche debole precipitazione che risulterà nevosa oltre 900-1100 metri di quota. In serata il cielo tenderà ad aprirsi su quasi tutto il territorio. Le temperature saranno in lieve aumento nei valori minimi e stazionarie o in lieve calo nei valori massimi con valori intorno alle medie stagionali. Potenza a 1 grado la minima, 4 gradi la massima, Matera a 3 gradi la minima, 8 gradi la massima. I venti tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali e saranno in rinforzo specie nelle zone settentrionali della regione. I mari risulteranno generalmente poco mossi. Tendenza per domani. In attesa di un lieve peggioramento previsto per domenica, domani la giornata vedrà un cielo poco o parzialmente nuvoloso con maggiori schiarite sulle zone costiere. Le temperature saranno insensibili e diminuzione nei valori minimi con estese gelate su molte zone della regione. Le massime saliranno di qualche grado. Le massime saliranno di qualche mina, domani la giornata vedrà un cielo costiere.